Siamo ancora qui a Viareggio in questa splendida cornice, le nostre macchine storiche alle spalle in attesa della nostra 318, la Porsche Speedster del 1954 che corre la 1000 miglia con i colori di Fonditalia e con me Carlo Andrea Carozzi, ti chiedo scusa ma mi ero dimenticato il cognome Carlo Andrea Carozzi è il titolare di una cooperativa, una cooperativa che ha beneficiato delle attività di Fonditalia per poter formare tutti i propri collaboratori. Quanto è importante Carlo questa situazione? È stato molto importante e molto utile per quello che riguarda anche la nostra crescita e grazie proprio a Etrusca Form che è al vostro fondo siamo riusciti anche a raggiungere un obiettivo che per noi era estremamente importante, quello della certificazione ISO 9001 che ci ha aiutato a standardizzare il nostro servizio. Ecco ti chiedo, consiglieresti a tutti gli altri imprenditori che tu incontri quotidianamente di utilizzare le risorse dei fondi che ricordiamo sono risorse gratuite per fare formazione? Certo, certo, è consigliatissimo ed è anche estremamente utile per crescere in modo sano e adeguato ai tempi che ci sono adesso, ai tempi di oggi. Standardizzare il servizio nel mio settore è una cosa importantissima e grazie a quelli che sono i vostri fondi siamo riusciti a fare una formazione completa senza spendere nessun soldo. Ecco questo è importante, dobbiamo dirlo, formazione di qualità, formazione a costo zero. Sì, a costo zero, esatto. Bene Carlo Andrea, allora io non posso che dirti, rimani con noi, goditi la mille miglia e tra poco vedrai la nostra macchina. Grazie per essere stato con noi. Grazie, grazie.